È reato universale il disegno di legge che rende la gestazione per altri, nota meglio come maternità surrogata, reato universale è legge. Lo ha deciso il Senato con 84 sì e 54 no. La gestazione per altri nella quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di un'altra coppia in realtà era già vietata in Italia dalla legge 40 del 2004. Ora lo sarà anche all'estero per i cittadini italiani che vi ricorrono. Chi contravviene rischia una pena da tre mesi a due anni di carcere e una multa da 600 mila a un milione di euro. È stata una seduta lunga e in fiamme fin dall'inizio quando l'aula ha respinto le tre questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni, copione simile anche durante il voto degli emendamenti, sei quelli presentati, tutti respinti. Il disegno di legge nasce dalla proposta della capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione di Giustizia della Camera Carolina Varchi del 2023 che riprendeva quello presentato da Giorgia Meloni nella precedente legislatura. Il testo appena approvato è formato da un solo articolo che modifica dunque l'articolo 12 della legge 40 che al comma 6 prevede Chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro. A questa disposizione dunque si aggiunge un paragrafo per cui se i fatti di cui al periodo precedente con riferimento alla surrogazione di maternità sono commessi all'estero il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.